Buongiorno a tutti, martedì 21 marzo, altra giornata molto importante per i mercati azionari, soprattutto europei e statunitensi, perché dobbiamo capire se il rimbalzo di ieri è stato soltanto un episodio isolato o se la fase di recupero di breve periodo può continuare anche nella seduta odierna. Io, come sapete, leggo sempre i vostri commenti con un certo ritardo, ma cerco di rispondere a tutti e volevo approfittare di un commento di Salvatore che peraltro io conosco e vi leggo per chi non magari lo avesse già fatto. Anch'io resto scettico su questo rimbalzo, soprattutto in America, la cosa che mi fa riflettere è che nonostante 11 big banche americane abbiano versato 30 miliardi nei conti di First Republic Bank, questa continua a crollare, oggi quasi meno il 50%. Mi sa che in America c'è ancora molto altro sotto il tappeto, temo uscire anche il problema della tedesca Deutsche Bank, quello è il vaso di Pandora che innescherebbe una nuova crisi del sistema, la situazione è tutt'altro che sotto controllo. Ovviamente se ci fosse un problema su Deutsche Bank si creerebbe nuovamente una crisi sistemica, però io ho voluto leggere questo messaggio di Salvatore che ringrazio e ringrazio tutti voi quando interagite con il canale YouTube che comunque a piccoli passi sta quotidianamente continuando a crescere perché non dobbiamo farci comunque ingannare da un rimbalzo corposo e magari inaspettato come quello di ieri e un'eventuale prosecuzione come quella odierna perché io non sono certo che un problema Deutsche Bank possa venire fuori perché anche se probabilmente esiste verrà fatto di tutto perché questo rimanga come è stato per anni sempre sotto traccia. Però quello che non dobbiamo sottovalutare è che se c'è un problema con le banche regionali americane c'è stato un problema con Credit Suisse e oggi per esempio Moody's e Standard & Poor's, le agenzie di rating, hanno abbassato il rating di UBS, c'è il problema delle obbligazioni subordinate AT1 che sono per quanto riguarda Credit Suisse solo tra virgolette 16 miliardi, ma valgono complessivamente, lo sentivo questa mattina a Caffa Fari, 250 miliardi e sono prodotti molto rischiosi che tutte le istituzioni finanziarie hanno comunque anche se in minima parte in pancia, come si suol dire. Quindi non dobbiamo passare dal pessimismo più cupo all'ottimismo più convinto perché sicuramente anche l'intervento congiunto delle banche centrali fino alla fine di aprile, la riunione straordinaria prevista per questa settimana da parte della BCE ci lanciano un messaggio che probabilmente la situazione non è così serena come ci vogliono far credere. Poi se il mercato chiuderà gli occhi e ripartirà a rialzo per certi versi meglio, però non dobbiamo pensare che sia già tutto finito perché sinceramente gli indizi per cui la situazione sia meno facile di quanto ci vogliono far credere sono abbastanza evidenti. Vi condivido comunque subito lo schermo e partiamo ovviamente dagli indici americani. Vedete che il Dow Jones sta costruendo questo box di congestione sui minimi di periodo, ma la possibilità che vada a rompere la media mobile a 200, 32.374 è concreta e a quel punto il target sarebbe, come vi ho già detto, in area 33.000. Standard & Poor's 500, situazione più o meno analoga, in questo caso però il livello da superare sarebbe 3.964, la chiusura di ieri è stata comunque superiore alla media mobile a 200, 3.936, in questo caso il target è la media mobile a 50, 4.010. Un po' più debole nelle ultime due sedute a livello di pattern grafico secondo me il Nasdaq, poi di periodo è stato sicuramente più forte, in questo caso il livello da superare è 11.773 per un target a 11.827, importante che non venga ovviamente perso, il livello di 11.365 perché a quel punto ci sarebbe una probabile accelerazione a ribasso con target 11.238 e poi media mobile a 100, 11.181, per farvi capire la media mobile a 200 e 11.394. DAX, bel rimbalzo dai minimi di giornata, ha fatto un bel hammer, 14.458, chiusura 14.933 e in questo caso il segnale positivo è il recupero della media mobile a 100, 14.698 che era stata persa in intraday. Stesso discorso per il CAC che fa un minimo a 6.796, chiude a 7.013 e recupera il livello in maniera molto netta della media mobile a 100, 6.871. Eurostox minimo intraday 3.980, chiusura 4.119 e anche qui recuperata ampiamente la media mobile a 100 a 4.032. Il target per l'Eurostox può essere considerata area 4.200 dove transita la media mobile a 50, per quanto riguarda il CAC anche qui media mobile a 57.150, per il DAX 15.258. Futsimib Futures, ottima seduta quella di ieri, minimo 24.300, piuttosto profondo perché se avesse chiuso sotto questo livello di area 24.9 sarebbe stato un segnale veramente molto negativo. La chiusura è stata addirittura sopra la media mobile a 125.475, per cui per oggi il primo target è 25.895, quindi 26.205. Adesso veniamo ai futures per la situazione attuale, vedete che DAO più 0.08, Standard & Poor's 500 più 0.13, Nasdaq 100 più 0.13, Russell 2000 più 1.10, DAX fa più 0.97, Eurostox più 0.44, il Nikkei dovrebbe essere chiuso per festività, così diceva Caffè Affari, comunque qua dice che sta scambiando più 0.80, il Top X più 1%, Hang Seng più 0.37, China Share più 0.98, Singapore più 0.31, Cospi più 0.19. Notizie macro, c'è importante lo ZEV alle 11 previsto a 17.1, sentimento sull'economia tedesca, uno dei dati sempre più importanti, i dati canadesi, come vi ho già detto, c'è questo indici principale di prezzi al consumo, però che è praticamente un dato da tre stelle per il investing, ma ripeto l'incidenza sui mercati europei è veramente molto bassa, anche sui mercati americani, sinceramente anche ieri ha previsto un discorso della Guard, io ho avuto qualche impegno extra borsa, però secondo me il dato importante è quello delle 15, perché c'è ancora lo sfasamento orario con gli Stati Uniti che di solito esce alle 16 e la vendita di abitazioni esistenti 4,19 milioni. Poi abbiamo i CDA, ve li voglio far vedere perché oggi sono davvero molti, BC Speaker, BeWise, Comer, DHH, Digital Magic, Direkta, Frank Umberto Marmi, Friendly Energy, Gambero Rosso, Growers, GWS, ERA, Mondo TV France, Netinsource, Next3, Piovan, Prismi, RCS, Restart, Sabaf, Seco, SIT, SCM, Telesia, di Italian Sea Group. A questo proposito vi ho aperto il bilancio di Portobello perché è il tipo di bilancio che a me non piace, quando aumentano molto i ricavi, più 48%, 130.5 milioni e vi da 24.6 da 16.5 anche se adjusted, vedete già l'ebit scende a 13.5 a 13.9 e il netto fa meno 13.1, 7.7 da 8.8, in più aumenta sensibilmente il debito a 42.4 e 17.3. Sono andato velocemente a vedere, per quanto riguarda il debito è legato l'aumento del debito all'apertura ai nuovi punti vendita e all'acquisizione di E-Price. Per risultato netto c'era una componente straordinaria lo scorso anno, c'è scritto qui sotto, al netto della componente straordinaria dell'attivo effetto fiscale salve pari a 14 milioni di Euro con una crescita del 59.5, però poi mi consulterò con Gabriele. Quello che conta è che comunque diciamo che a fronte di maggiori ricavi, anche sensibili, c'è comunque una minore marginalità. Sempre Gabriele e partiamo da qui, mi ha segnalato, l'ho scritto nei commenti, ci ha segnalato che c'è stato un attacco informatico a Ferrari con praticamente una richiesta economica per non diffondere dati sensibili di clienti che hanno acquistato automobili Ferrari. Io al di là di questa notizia continuo a vedere il titolo sempre in distribuzione, il livello chiave è 239.1, minimo del 3 di febbraio, sotto questo livello 234.4, 228.5. Veniamo adesso alle notizie price sensitive di oggi. La prima riguarda le principali banche e assicurazioni italiane, intesa Unicredit, Banco BPM, BPER, Mediobanca, Generali e Unipol, hanno un'esposizione sostanzialmente nulla sul bond additional tier 1, così come sull'equity di Credit Suisse, secondo quanto riferito a Reuters da fonti vicino alla situazione. Prendiamo per buona questa notizia. Io avevo sentito ieri che in realtà le istituzioni finanziarie italiane o nelle istituzioni finanziarie italiane erano presenti 4 miliardi dei 16 miliardi di Euro di questi AT1, quindi sarebbero obbligazioni subordinate che si chiamano additional tier 1. Comunque vedremo, speriamo che poi sia fatta definitiva chiarezza su questo aspetto. Stellantis, l'associazione di costruttori automobilistici europei ACEA pubblica i dati sulle mitricolazioni a febbraio. Vediamo, i dati in Europa sono sempre stati molto brutti per Stellantis, comunque sta costruendo una buona base qui poco sopra 15,15, per cui finché tiene questo livello è ancora possibile un rimbalzo direi fino a 16,19, 16,40, 16,43,8. Mondo TV, ne abbiamo già parlato più e più volte, è uscita la notizia che tutti ci aspettavamo, che è quello per cui Borsa Italiana ha disposto il divieto di ordini senza limite di prezzo, da oggi fino a successiva comunicazione. Mi scuso con voi, ma non ho fatto a tempo questa mattina ancora aprire le piattaforme di trading, ovviamente poi ne parlerò anche a fine giornata, vediamo oggi se almeno il titolo riesce ad aprire. Per questa mattina ho concluso, noi ci sentiamo questa sera dopo la chiusura del mercato diurno e ovviamente auguro buon trading a tutti. Grazie a tutti.